5 cose che forse non sai dell'Audi S6 Plus Era possibile ordinarla in tutti i colori del catalogo Audi, ma fu presentata in questo colore, chiamato Nogaro Blu, che è lo stesso della presentazione dell'Audi RS2 È universalmente riconosciuta come la prima Audi RS mai prodotta, anche se per motivi di copyright viene battezzata S6 Plus Per la prima volta su Audi il tachimetro a fondo scala a 300 km orari e di serie era color Nogaro Blu È il primo progetto della divisione 4 di Audi e sono stati realizzati 855 esemplari Station Wagon e 97 Berlina Rispetto alla S6 il motore guadagna 36 cavalli di potenza raggiungendo quota 326 con 420 Nm di coppia Seguici per altri contenuti come questo